Musica Eccoci al nostro appuntamento con Telebelluno Agenda, vediamo qualche proposta per sabato 20 gennaio. Sabato 20 gennaio alle ore 18.30 al Deon Lounge Bar in Piazza dei Martiri a Belluno si presenterà il calendario degli eventi che vedrà protagonista l'associazione Pollicino per festeggiare i 10 anni dell'apertura di casa Pollicino. L'invito è quello di partecipare numerosi. Cambiamo argomento e adesso ci spostiamo a Feltre perché sabato 20 gennaio alle ore 20.30 presso il Museo Diocesano di Arte Sacra di Feltre si terrà il secondo incontro della rassegna al di là dei luoghi comuni per salvare i luoghi reali. Questo che rientra una rassegna in occasione del cinquantesimo della rivista Feltrina. Rappresentarsi in montagna con Mendicino e Seronna dove discuteranno, dove si discuterà e si illustrerà la montagna non retorica nell'opera e nei luoghi di Mario Regoni Stern. E concludiamo questa edizione di TBD Agenda parlando adesso di Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Uno spettacolo messo in scena dalla compagnia Destino Teatro di Treviso che arriverà alla Sala Teatro Rasai di Rasai di Serena del Grappa. Sabato 20 gennaio alle ore 20.45. Quattro amici di vecchia data si ritrovano tutti i lunedì per giocare a poker. La partita però si trasforma in una sorta di terapia di gruppo che ha come tema le vessazioni che i poveri uomini subiscono dalle donne. Ma un'altra cosa accade quella sera. Gli amici chiamano una compagnia femminile che ben presto arriva bella e seducente. E maggiori informazioni su questa accattivante commedia, su questo spettacolo, si possono avere consultando la pagina Facebook Sala Teatro Rasai oppure salateatrorasai.gmail.com È tutto anche per oggi. Buona giornata. Arrivederci.